Il campo basso prosegue negli allenamenti pomeridiani che si stanno tenendo in sede. Ieri il gruppo si è spostato di pochi metri presso il sintetico dell'antistadio Acli. Merita un capitolo a parte lo stato pietoso nel quale la nuova società Rosso Blu ha rinvenuto lo stadio di Selva Piana come hanno documentato ieri le nostre immagini. Il campo ormai completamente ingiallito e privo di erba in alcune zone andrà risistemato al più presto ma non solo. La stessa struttura sportiva attende da tempo in memore l'inizio dei lavori di potenziamento e manutenzione che sono stati già appaltati ed assegnati ad una ditta campo bassana. La domanda che giriamo a Palazzo San Giorgio nella fattispecie all'assessorato e ai lavori pubblici è molto semplice. Quando vedranno la luce gli ormai famigerati lavori presso lo stadio di Selva Piana? Struttura che purtroppo verse in uno stato di totale degrado ed abbandono completamente dimenticata dalle istituzioni. Attendiamo fiduciosi una risposta. Tornando al campo basso il mercato tiene banco anche se nessuno fra i dirigenti ama sbilanciarsi su tale argomento. Dovrebbero giungere nuove ufficializzazioni entro il ferragosto ma sicuramente non ci si potrà aspettare un campo basso al completo per la prima data di Coppa Italia fissata per il 20 prossimo. Il tecnico di concerto con la società mostra di non avere alcuna premura nella realizzazione totale dell'organico rosso-blu. Meglio essere ponderati piuttosto che decidere in maniera affrettata. Questa la linea guida dello Stato Maggiore Campovassano. Sembra essere qualcosa in più di una semplice telenovela estiva. La voce che vuole Andrea De Julis ormai prossimo alla firma con il campo basso. Quest'ultimo attaccante aveva stretto con il Teramo salvo lasciare il ritiro abruzzese non più tardi di due giorni fa. A rendere ancora più fattibile la trattativa il discreto rapporto tra De Julis e Foglia Manzillo insieme due anni fa al Serpentara quando l'attaccante romano ha avuto un grandissimo esploat realizzando 16 gol in 31 partite. Si tratta di una prima punta che potrebbe aggiungersi ad un reparto, quell'offensivo che ha nella sua struttura per ora il solo Ingretolli, attaccante tormentato dagli infortuni negli ultimi 12 mesi e desideroso di riscatto. Sul fronte societario venerdì prossimo sarà molto probabilmente il giorno utile per conoscere ufficialmente i nuovi dirigenti del campo basso in una conferenza stampa presso un albergo cittadino. In realtà i nomi per il futuro organigrama stanno già circolando da tempo, cioè Marco De Lucia, presidente, Alberico Turi, direttore generale e Pavarese, direttore sportivo. Il momento della conferenza sarà atto anche alla conoscenza dei nuovi dirigenti da parte dei tifosi e all'annuncio della programmazione per i prossimi anni. Ad Agnone viene smentita la voce che voleva una conferma per l'attaccante Daniele Margarita. Sarebbe stata un'ottima cosa per i Granata, ma l'attaccante sembra essersi accasato con il Fiumicino già da qualche giorno. Il DS Nicola Dottavio ha raggiunto ieri l'accordo con il centrocampista Balzano che lo scorso anno ha giocato nel Taranto in Lega Pro. Questi vanno ad aggiungersi ai riconfermati Litterio e Lucarino. Per il resto c'è una rossa da rifare completamente con un'attenzione particolare. Rivolta ai fuori quota, rintracciare quelli validi in questa fase particolare non è semplice perché i migliori, almeno in teoria, dovrebbero essere già accasati. Probabilmente anche in base a quello che l'Agnone sarà in grado di fare sul mercato dei fuori quota verrà deciso il modulo. Il neotecnico Candido Bucci è un cultore del 4-3-1-2, ma non è escluso che, secondo l'andamento del mercato, possa virare verso un'altra soluzione tattica. Infine, una precisazione da fare sull'ampliamento delle sostituzioni in Serie D da 3 a 5, argomento che affronteremo anche con l'allenatore del Campobasso nell'intervista che seguirà. Bisogna puntualizzare che esiste innanzitutto la facoltà di effettuare 5 cambi in tre momenti distinti, non in 5. Dunque ogni tecnico che scelga di fare 5 cambi ne potrà fare uno singolo e due coppie di due giocatori, altrimenti le cose andrebbero davvero troppo per le lunghe. I cambi non dovranno minimamente alterare la distribuzione dei quattro fuori quota obbligatori ed il relativo anno di nascita, appena la sconfitta a tavolino della partita. Si tratta di un vero scossone alle norme federali che per ora investe la Serie D e i campionati minori, ma che dal prossimo anno potrebbe toccare anche la Lega Pro.